Sollevata una nuova eccezione di legittimità costituzionale per l'aiuto al suicidio. Riguarda, spiega l'Associazione Coscioni, l'articolo 580 del Codice Penale, dove richiede che la non punibilità di chi agevola il suicidio sia subordinata anche alla condizione dell'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione. A rimettere la questione alla consulta, il GIP di Firenze, nell'ambito del procedimento penale su Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli. Tutti e tre si autodenunciarono nel dicembre 2022 per aver aiutato Massimiliano, 44enne toscano, malato di sclerosi multipla, ad andare in Svizzera, dove morì con il suicidio assistito. In Italia, aveva spiegato lo stesso Massimiliano in un appello diffuso pochi giorni prima di morire, non poteva perché non dipendeva da trattamenti vitali. Una delle quattro condizioni fissate nella nota sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019 sul caso del DJ Fabo. Un ricorso incidentale che, se venisse accolto dalla consulta, consentirebbe la possibilità di accedere al suicidio assistito a moltissime persone, tutte quelle che non sono tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale, come i malati di sclerosi multipla o di cancro.